In padiella tutto ognuno osa verso. O verso i dai, o disermano di Rusio sia a Longo sia a Motsu, e rimpegro oggi sentivi che specializzati di Ugantu si puniva da domanda. Ma che dì è un verso? È un termine che ha pareciso e che ricopre assai le zone differenti. È una maniera di essere, una maniera di cantare, è un insieme di regole che ho rispettato quando si pratica di Ugantu o di improvvisazione. Sono regole di poesia, sono regole di musica. Longa due giorni, musicanti e scientifici francesi, anche dagli anni, in cui archivi di bulefonia e spiegazione hanno cercato a capire l'origine di Ugantu. Anche se una risposta di argonestà da droga, ognuno è da consento che la maniera di cantare una padiella non ha mai piantato di scambiare. La trasmissione non è più all'istessa, non se si va a giù in un paese, ma la trasmissione si va a giù per gli ischi, per gli registramenti. I versi sono benadenti, di una maniera di cantare tutti ognuno. Penso che per un cantaore di Badiella il scopo è di cantare una versi. Non è conciato, con tutti i versi che esistono, di ascoltare, di cantare, di costruire una versi. La Sò Giugantu Badiella metterà in linea per tutti i ricerchi e i contratti di questa giornata di riflessione. La Sò Giugantu Badiella